Giovanni Grisorio è stato ritrovato e sta bene. Ha avuto un lieto fine la vicenda del 45enne scomparso mercoledì mattina da Santa Barbara nel comune di Cavriglia. L'uomo è stato infatti ritrovato nelle ultime ore ed è stato riaccompagnato a casa dove finalmente ha potuto riabbracciare la moglie. Il 45enne che ha problemi di deambulazione era uscito lo scorso mercoledì mattina per andare a fare una passeggiata. Con sé aveva solamente il marzupio. La moglie dopo alcune ore non vedendolo rientrare a casa aveva lanciato l'allarme ed erano così scattate le ricerche. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti i volontari delle associazioni di protezione civile, il soccorso alpino e i vigili del fuoco con l'unità di comando locale. La task force poi da Cavriglia si era spostata a Matassino di Fighine al confine tra le province di Arezzo e Firenze perché qui era stata aggangiata una cella dal cellulare dell'uomo. Le ricerche sono poi andate avanti per tre giorni sino al ritrovamento che sarebbe avvenuto però ben lontano dal Val d'Arno in Piemonte. Comunque adesso dopo giorni di paura e apprezzione i familiari possono tirare un sospiro di sollievo.